Rieccoci e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con Spazio Notizia che apriamo parlando di cronaca. 12 persone sono indagate a Enna per aver introdotto droga e cellulari all'interno della locale casa circondariale. Vediamo il servizio. Gli agenti della squadra mobile di Enna, della Polizia Penitenziaria di Palermo ed Enna con la collaborazione della Polizia Scientifica, delle squadre mobili di Catania, Siracusa e Catanzaro, del personale dei reparti Prevenzione e Crimine di Palermo e Catania e del nucleo investigativo regionale di Catanzaro e Firenze hanno dato esecuzione a 12 misure cautelari emesse dal GIP del Tribunale di Enna e dal GIP presso il Tribunale per i minorenni di Caltanissetta. I soggetti destinatari delle misure cautelari sono indagati per aver introdotto nella casa circondariale Luigi Bodenza di Enna, sostanze stupefacenti e telefoni cellulari. A 8 indagati, tra cui un soggetto minorenne all'epoca dei fatti, è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere. Due indagati sono stati invece ristretti ai domiciliari e uno è stato sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di dimora, mentre all'unico indagato ancora minorenne è stata applicata la misura del collocamento in comunità. Cambiamo decisamente argomento, torniamo a occuparci del centro di cardiochirurgia pediatrica del Mediterraneo attivo presso l'ospedale San Vincenzo di Taormina, centro d'eccellenza che come sapete rischia la chiusura. Ebbene c'è una notizia importante perché è stata, perché è arrivata una proroga di un anno fino al 31 luglio 2025. Soddisfatto, almeno per il momento, è la Presidente Renato Schifani. Vediamo il servizio. Proroga fino al 31 luglio 2025 per il centro di cardiochirurgia pediatrica dell'ospedale San Vincenzo di Taormina. Un provvedimento, ha dichiarato il Presidente della Regione siciliana Renato Schifani, che abbiamo richiesto al Governo nazionale e che ringraziamo per la fattiva e operosa collaborazione perché ci consente di garantire la continuità assistenziale in attesa che il Ministero della Salute accolga la nostra richiesta di deroga al decreto Balduzzi per mantenere in via definitiva la struttura di cardiochirurgia pediatrica nella provincia di Messina. La Regione, infatti, in sede di revisione della rete ospedaliera dell'Isola e ispirandosi al modello Veneto, Regione con caratteristiche di popolazione analoghe alla Sicilia, intende confermare i due centri di cardiochirurgia pediatrica al momento attivati e funzionanti. Riteniamo concretamente possibile, oltre che utile per ridurre la mobilità sanitaria della Sicilia e in molti casi anche della Calabria, ha aggiunto il Governatore Schifani, mantenere la piena funzionalità di entrambe le strutture. La proroga di un anno ci consente di attendere con maggiore serenità le determinazioni del Ministero della Salute, con cui il confronto è aperto in relazione alla rete ospedaliera in corso di revisione. Il nostro obiettivo è garantire cure e assistenza d'eccellenza a tutti i piccoli pazienti della nostra comunità siciliana, evitando disagi e costi aggiuntivi alle famiglie, ha concluso il Presidente. Crisi idrica sempre in primo piano in Sicilia, allora un nuovo intervento della Regione siciliana che semplifica e accelera le procedure per il prelievo di acqua non potabile, dunque acqua destinata all'uso agricolo e zootecnico. Vediamo tutti i dettagli nel servizio. La Regione siciliana semplifica e accelera le procedure per il rilascio delle autorizzazioni all'attingimento di acqua per uso non domestico, riducendo l'iter da 60 a 5 giorni. Lo prevede una direttiva firmata dall'assessore alle infrastrutture Alessandro Aricò, dal quale dipendono gli uffici provinciali del Genio Civile titolati al rilascio delle relative licenze. L'attuale emergenza siccità per la quale il governo Schifani è impegnato in prima linea, ha dichiarato l'assessore, richiede misure straordinarie e immediate. Con questa direttiva intendiamo supportare le aziende agricole e zootecniche dell'isola, permettendo loro di accedere rapidamente alle risorse idriche necessarie per la continuità delle loro attività produttive. La licenza, sebbene provvisoria, consente l'utilizzo immediato delle risorse idriche in attesa del provvedimento definitivo. A partire dalla pubblicazione della direttiva, chiunque faccia richiesta di attingimento per attività agricole, zootecniche e di trasformazione, potrà iniziare i prelievi di acqua successivamente alla presentazione dell'istanza corredata dalla documentazione necessaria e da una dichiarazione asseverata da un professionista. L'ufficio del genio civile competente per territorio rilascerà entro cinque giorni un'attestazione che avrà valore abilitativo. La procedura autorizzativa definitiva sarà poi completata entro 60 giorni. La direttiva emergenziale sarà valida fino a quando perdurerà lo stato di crisi idrica e si applicherà esclusivamente alle istanze per usi agricoli, zootecnici e di trasformazione dei prodotti, con approvvigionamento da corsi d'acqua, sorgenti e pozzi. Saranno garantiti il deflusso vitale minimo per i corsi d'acqua e una portata massima di prelievo di un litro al secondo per ciascun pozzo. E tra le conseguenze del grande caldo della crisi idrica in Sicilia c'è anche quella di una vendemmia davvero molto anticipata, vendemmia che è già scattata in Sicilia come detto proprio a causa di questo grande caldo. Ci sono comunque novità e notizie importanti e positive perché le uve sono sane e integre, questo dicono gli esperti. La vendemmia più lunga d'Italia, mediamente oltre 100 giorni, quest'anno è iniziata in Sicilia con un anticipo di 12 giorni, un record per alcune zone come nei territori di Menfi. Un inverno e una primavera caldi, privi di piogge, hanno promosso un precoce germogliamento e di conseguenza un'anticipazione di tutte le fasi fenologiche e fisiologiche della vite. Nonostante le condizioni siccitose, non sono presenti segni di stress idrico e le uve sono perfettamente sane e integre. I vigneti siciliani quindi si presentano in ottimo stato fitosanitario e qualitativo. Alcuni vitigni coltivati negli areali dell'isola rivelano una naturale e performante resistenza alle estreme condizioni siccitose. Per l'annata 2024 è stimato un aumento intorno al 10-15% rispetto alla precedente annata, ma un calo fisiologico rispetto a una media ottimale. I viti vinicoltori in Sicilia si rivelano capaci di governare la siccità grazie all'utilizzo di porta-innesti innovativi e all'uso di prodotti naturali che riparano dagli stress ambientali e dalle ondate di calore. Infine, una corretta gestione del suolo e delle risorse idriche, insieme alla sperimentazione avviata con sensori che monitorano lo stress idrico, consentono l'irrigazione di precisione e l'ottimale uso dell'acqua. Dopo il via nella Sicilia occidentale con la raccolta della base spumante, la vendemmia prosegue con le varietà internazionali seguite dai vitigni autoctoni. A chiudere questa lunga vendemmia saranno i produttori dell'Etna a fine ottobre. La vendemmia siciliana è un momento di grande confronto per i viti vinicoltori dell'isola, ha dichiarato Mariangela Cambria, presidente di Assovini Sicilia. Le previsioni per l'annata 2024, ha aggiunto, parlano di qualità e di uve sane e integre, ma anche di tecniche agronomiche e di gestione del suolo che oggi consentono di affrontare meglio la siccità in Sicilia e nei vigneti. Il problema della gestione delle risorse idriche non può essere affrontato in maniera autonoma dai singoli produttori, ma occorre una visione politica d'insieme che consenta di attuare in maniera strutturale un piano idrico, ha concluso Mariangela Cambria. Ad agosto prenderanno il via i lavori nella chiesa di Monte Rosso Etneo, una frazione di ACI Sant'Antonio, chiesa che è stata danneggiata dalla terremoto della dicembre 2018. La diocesi di ACI Reale ha comunicato che agli inizi di agosto si darà l'avvio dei lavori di ripristino e miglioramento sismico della chiesa di Sant'Antonio di Padova, situata nella frazione di Monte Rosso Etneo, comune di ACI Sant'Antonio. Questo importante progetto, reso possibile grazie ai finanziamenti del commissario straordinario Salvatore Scalia per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici del 26 dicembre 2018, rappresenta un passo significativo verso la riqualificazione e la messa in sicurezza del patrimonio culturale ed ecclesiastico della comunità accese. Il progetto prevede una spesa complessiva di oltre 310 mila euro, finanziata interamente con fondi del commissario straordinario. La gara d'appalto è stata giudicata da un'impresa di agrigento che si è impegnata a eseguire i lavori garantendo la massima qualità e sicurezza nelle operazioni. L'intervento nella chiesa, come ristrutturazione edilizia e consolidamento, prevede il ripristino del prospetto e il recupero dell'interno lesionato dal sisma. Sarà restituita alla collettività entro il prossimo anno. Il ripristino della chiesa rappresenta non solo il recupero di un edificio storico, ma anche la resilienza e la volontà di rinascita della popolazione. Oggi vengono consegnati i lavori per la chiesa di Sant'Antonio di Padova in Monterosso. Auguri alla comunità, auguri al parroco padre Alfio e un grazie al nostro vescovo perché è sempre il promotore di tutti i lavori. Questi lavori saranno interessati soprattutto alla riparazione delle lezioni che ci sono nella chiesa, la facciata e il campanile. Siamo certi che questa chiesa sarà restituita nel più breve tempo possibile alla sua comunità, nel suo splendore e con maggiore sicurezza. Grazie a tutti coloro che hanno collaborato. Buon lavoro che possa diventare motivo veramente di gioia e di nuovo incontro per questa bella comunità. Dal 1 agosto ufficialmente parte l'inizio dei lavori che dovranno chiudersi entro sei mesi. Quindi si spera fra sei mesi di riconsegnare pienamente alla collettività di Monterosso e non solo la chiesa di Sant'Antonio che è una bellissima chiesa, che ha una sua tradizione e soprattutto tanti tanti devoti. Una mostra speciale a Catania, la mostra delle illusioni. Ce ne parla Lucio Di Mauro. La mostra dell'illusione che fa tappa a Catania al centro feristico Le Ciminiere si propone come un percorso espositivo interattivo dedicato all'affascinante mondo delle illusioni ottiche e percettive. Realizzata dalla società Museum Evans Group, che si occupa da anni di esposizioni a carattere divulgativo e di intrattenimento, questa mostra rappresenta al pubblico più di cento illusioni spettacolari in grado di emozionare e stupire il visitatore. Sono 60 opere, 60 illusioni, tra le quali ce ne sono alcune che chiaramente hanno un aspetto più scientifico e psicologico, altre sono più divertenti, però tutte stupiscono il visitatore in maniera importante. Si rimane spesso a bocca aperta all'interno della mostra. Si possono inoltre scattare tante fotografie divertenti, fotografie impossibili che appunto fanno divertire il pubblico. Fra le tante citiamo la stanza di Ames, una stanza dove si può diventare da giganti a dei nani, la stanza ribaltata, quindi ci si trova all'interno di una stanza capovolta, scusate, dove appunto si possono fare anche lì foto impossibili. Poi vi invitiamo a venire a visitarla per scoprire i tanti punti divertenti che ci sono e interessanti all'interno della mostra. Una combinazione di scenografie, immagini, esperienze da vivere in prima persona e uno spazio ampio e innovativo dedicato all'esperienza della realtà virtuale accompagneranno il pubblico di ogni età in un viaggio attraverso il misterioso e coinvolgente mondo delle illusioni. La mostra delle illusioni che arriva per la prima volta a Catania nella suggestiva location delle ciminiere è tuttora presente anche nelle città di Genova e Brescia. Parliamo di calcio, storico accordo tra Giardini Naxos e Taormina nasce la SD, Taonaxos. Sentiamo Mauro Romano. Il presidente del nuovo sodalizio, Giacomo La Rosa, ecco dove giocherà questa squadra? Allora la squadra giocherà in prima categoria, per ora giocheremo qui a Giardini, campo comunale di Calcarone Giardini Naxos. Poi quando sarà pronto il campo, il bacica lupo e Taormina la squadra si trasferirà per il campionato di prima categoria. Però ancora ci sono tante cose che si devono sistemare a livello di società perché dato che è una società nuova stiamo cercando di creare tante cose belle sia nel sociale sia per lo sport giardinese e taorminese. Infatti sarà fatta la società alle basi sul sociale perché cerchiamo soprattutto di puntare sui bambini, sui bambini, sui giovani e creando altre situazioni. Abbiamo anche una squadra di calcio a 5 in serie D, avremo una squadra femminile in cui il responsabile sarà Santoro Filippo e cercheremo di fare tante e tante altre cose creando anche un'altra squadra di Wisp per i più grandi così si possono passare il tempo per riunirsi. Pancrazio Cingari, un momento storico dal punto di vista sportivo, perché? Abbiamo pensato di fare una squadra che si chiamerà AS di Taonaxos cercando di togliere quella rivalità che c'è stata nel calcio da tanti anni tra taormini e giardini. Stiamo creando pure un settore giovanile ampio, una scuola calcio, stiamo cercando di fare delle cose per togliere i bambini dalla strada. Quindi anche un'attività dal punto di vista sociale. Sì, sì. Per il momento è tutto, ci fermiamo qui, ma ci ritroviamo più tardi per una nuova edizione di Spazio Notizia. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.